Un pochettino in ritardo ma vi chiedo scusa, quindi rimediamo subito con la mia top 5 di 5 Pokémon di tipo spettro, da me preferiti. Cominciamo subito! Alla posizione numero 5 troviamo Gengar. Gengar è un bellissimo Pokémon tipo spettro e veleno. Una ottima combinazione per un Pokémon normale. Un po' difficile sempre da ottenere se ti ritrovi sempre nel solito paesino stronzo con nessun amico che ha un cavo o DS o qualsiasi altra console che comunichi in un qualsiasi modo da poter scambiare hunter per farlo evolvere, ma fatto sta che quando ce l'hai ti dà molte soddisfazioni. Inoltre è molto potente in attacco speciale, è davvero una bestia nel metagame. Alla posizione numero 4 troviamo il più bello, Spiritomb. Spiritomb con il suo doppio tipo, buio, spettro e inoltre con la sua vecchia tecnica hackeratissima che era Magi Difesa. Ovviamente parlo sempre del metagame di Diamante Perla e Platino, quando ancora utilizzavano il PokéSav che volevo tanto usare anch'io ma non ero capace perché non avevo un R4. Comunque sia, Spiritomb l'avevo già detto tempo fa su di lui, mi piaceva da matti anche come tipo buio e per questo che lo rimetto anche nel tipo spettro. Lo rimetto alla quarta posizione perché ovviamente c'è qualcun altro che mi piace di più. Alla posizione numero 3 troviamo Drifblim. Drifblim era bello da trovare Drifflon il venerdì dall'impianto turbine o turbine, dipende come volete chiamarlo. È bellissimo da shiny, ha un casino di vita se è vissato bene in attacco le palle, in vita, in PS, punti salute. Inoltre penso che la sua mossa esplosione sia una delle più potenti che esistano. Sì, penso proprio che sia così. Alla seconda posizione troviamo Miss Majus, l'evoluzione di un Pokémon che si meritava finalmente un'evoluzione perché quando Miss Dravious era nato nella seconda generazione era particolarmente inutile. Sì, lo trovavi, se non sbaglio, sul Monte Argento ma era lì e si stava a guardare. Cosa serviva? Fortunatamente poi hanno messo Miss Majus migliorandolo di un casino. L'abilità, la forza e la bellezza del Pokémon. Oh yeah! E la prima posizione troviamo il Pokémon contrario, tra virgolette. Giratina. Colui che abita nel mondo oscuro dove lo spazio e il tempo sono fermi, non esiste niente. Tutto non segue le regole della fisica e della logica, la sua potenza. Lui, diciamo, il Dio, il Satana, Arcius e Giratina. La sua potenza, la sua tetricità, si può dire così, però che sinceramente non mi viene in mente dato che sulle nove e un quarto del mattino dovrei andare a scuola tra un quarto d'ora ma sono qui a registrare la top five. Si parte che la carico il pomeriggio ma non è quello brule. Ma comunque, Giratina merita il primo posto perché è un Pokémon oscuro pieno di misteri e ancora tanto deve essere scoperto. E secondo me se faranno un remake della quarta generazione ci pianteranno una mega evoluzione e va a fa un culo, ciao ciao. Quindi ragazzi, questa è la mia top five dei cinque Pokémon di Boss Bettro. Diciamo che sono anche abbastanza felice di averla fatta così almeno, dato che nell'ultima top five tutti, almeno un paio di persone, rompevano le palle su sto Gengar. Sì, Gengar è bello ma non si merita la mia prima posizione perché sono gusti personali, non lo metto in prima posizione perché non piace come prima posizione a me. Quindi ragazzi, se questa top five vi è piaciuta mettete un bel mi piace e commento in iscrizione e ci rivediamo a una prossima parte. Un saluto da Teo e ditemi se è vero la vostra. Ciao ciao.